Superare i propri limiti, questo ci insegna lo sport ad affrontare gli ostacoli, cadere e rialzarsi Ma se ci si ferma, credendo di non essere capaci, di non potercela fare è allora lì che saremo stati sconfitti perché quando sarai stanco e sarai arrivato allo stremo delle tue forze una sola cosa farà la differenza un pensiero, un'idea, una convinzione, un sogno e se superai quel limite, se infrangerai le barriere che tu stesso hai creato nessuno potrà mai più fermarti Correre, correre è una ragione di vita non lasciarti frenare dalle tue debolezze ma prendine coscienza per tramutarne in forza non puntare semplicemente alla vittoria ma punta a dare il massimo se riuscirai in questo se riuscirai a credere in te i tuoi sforzi saranno ricompensati se sarai riuscito a spingerti oltre sentirai quell'istante quell'incredibilizzazione che ti farà brillare e in quell'antimo capirai di essere vivo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti